Cina, distretto di Xi'an Chu, vicino a Xi'an King, appena fuori da Macong, passata la rotonda. Qui vive il bulgide agriforo. A metà tra un insetto e una putrella, è difficilissimo da scorgere, poiché la forma del guscio lo rende indistinguibile da un semplice sasso. Si nutre di ghiaia e unghie di panda, per questo in cinese è chiamato pallucchie le, cioè estetista. Quando la femmina va in calore, di solito ad agosto, il maschio perde il controllo, si esprime in modo confuso e aggressivo, perché è agriforo, cioè viene dalla campagna, è quasi analfabeta e non sa comportarsi. Il corteggiamento si riduce quindi ad un rutto e un colpo con il proboide per girare la femmina. Sovente però la femmina è crudele, o non gradisce il compagno, o ha mal di testa, o semplicemente ha voglia di rompere i coglioni e nasconde la valvola, anche per un mese. E il maschio può anche morire nel tentativo di fame o di fatica.